Il milione di euro al maggio, a che punto siamo allora? Abbiamo già parlato di questo, ne abbiamo già parlato a sufficiente. No, ma è successo, è arrivata una comunicazione della regione che ha detto che non c'è questo milione. Io parlo per il comune, abbiamo approvato il bilancio e mi pare che vada tutto bene. Facciamo un passo indietro. Mercoledì viene approvato il bilancio preventivo del maggio musicale fiorentino. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, la mattina trova però scritto su Repubblica da una intervista della vicepresidente e assessora alla cultura Monica Barni che per la fondazione ci sarebbe stato da parte della regione un milione in meno. Dopo uno scambio di telefonate con il governatore Rossi, tutto sembra essere rientrato tanto che il bilancio viene approvato. Il giovedì alle 19, un lancio Anza dice che per il 2016 il taglio nel contributo della regione toscana al maggio musicale è confermato. Da un'ipotesi iniziale di 4,5 milioni si passa a 3,5. La decisione, si apprende, verrà adottata con delibera nella giunta che si terrà la prossima settimana. Dopo neanche un'ora, in un altro lancio Anza, si dice che non è stata inserita all'ordine del giorno della seduta della giunta regionale della prossima settimana la delibera relativa ai contributi per il maggio musicale. Dalla regione si fa sapere che non verrà discussa la delibera, ma non viene smentito il taglio. Noi ieri lo abbiamo chiesto al presidente Rossi, che però non ha voluto rispondere. Parliamo del maggio musicale, l'investimento, nulla.